Già lo sapete che ora è, è l'ora della reaction, una reaction tra l'altro al nostro amico Gabriele Di Maggio, Gabriele Di Maggio che tra l'altro per una serie di sfortunati eventi, colpa mia sostanzialmente, mi sono incasinato con gli impegni, non è riuscito a essere riportato sul canale alla fine del 2023 quando avremmo dovuto vederci, avevamo schedulato una live, un video insieme eccetera eccetera e per colpa mia che sono un cazzaro, lo ammetto, lo ammetto, lo ammetto, è saltato tutto, ma nel 2024 ve lo riporto sul canale perché Gabriele è un amico, una persona che stimo ed è soprattutto un ragazzo che vale la pena ascoltare e allora visto che è da un po' che non lo ospito, mi ha passato il bondario che è sempre il maestro delle reaction e lui che decide, io non so niente, mi ha passato un suo video su come scegliere l'università, tema questo sempre molto caldo, molto interessante, io stesso ne ho parlato più volte e quindi sono super curioso di sapere che cosa ne pensa Gabriele, Gabriele che tra l'altro sta per andare all'università, no? Voi sapete che Gabriele dal punto di vista dello studio, della fisica, della matematica era già molto avanzato, già alle scuole medie aveva quasi completato praticamente il percorso di studi, degli argomenti, di matematica, di fisica, della magistrale addirittura, quindi era veramente avantissimo, però ancora non va all'università, quindi si trova in una situazione un po' particolare in cui sta scegliendo adesso o comunque avrà già deciso, mi immagino, ma sta per entrare nel mondo dell'università, quindi mi interessa il suo punto di vista e allora 3, 2, 1, reaction time. Ciao, io sono Gabriele Di Maggio, ho 16 anni e sono qui a parlarti di matematica, fisica, filosofia, un po' perché mi va quando mi va. Innanzitutto ti... Intanto bellissima questa intro, bellissima, avete notato quanto è migliorato Gabriele nella capacità espositiva in questi anni? Veramente, ormai è uno youtuber fatto e finito, cioè ha proprio anche la carica, la verve, mi piace veramente molto e mi piace anche la presentazione che potrebbe andare bene anche per il suo canale YouTube, cioè io sono qui, vi parlo di matematica e di fisica, quando mi va, come mi va, perfetto. Non posso esimermi dal parlare del ciuffo di Gabriele, i suoi capelli sono ancora più disordinati dei miei, cioè vanno dove vogliono e questa cosa è meravigliosa. Fare la scelta dell'università. Naturalmente non posso che parlarvi di cosa? Delle università e delle facoltà che principalmente prediligo io, quindi matematica... Questo è molto interessante. Ecco, questo è un punto di vista interessante. Io non sapevo che il video sarebbe andato in questa direzione, ma dopo aver sentito questa frase mi interessa tre volte tanto rispetto a quando sono partito. Perché evidentemente quello che Gabriele farà non sarà dare dei consigli generalisti, come quelli che ho potuto dare io per esempio, ma dei consigli specifici per i tipi di facoltà che lui ha preso in considerazione, prende in considerazione facoltà del mondo STEM, ma all'interno del mondo STEM più orientati verso proprio science e mathematics, quindi SM. Mentre invece lui magari non prende tanto in considerazione l'aspetto di tecnologia, di ingegneria e di informatica, no? Non è il suo. Lui interessa più l'aspetto scientifico e matematico. Fisica? E potrei dirvi qualcosina su qualche ingegneria, anche se quel lato non lo conosco troppo bene. Però un attimino bisogna precisare cosa realmente intenda ora con questa domanda. Perché questo video può essere visto come un corollario all'altro mio video pubblicato qualche giorno fa sullo studio da autodidatta. Perché purtroppo, vuoi o non vuoi, a volte succede che una volta fatto uno studio preliminare appunto da liceale e così via, prima di entrare all'università, poi arrivi il momento dell'entrare all'università. E purtroppo alcuni sono costretti a fare questa scelta da soli o mal consigliati e quindi mal accompagnati, diciamo. Sarebbe preferito. E questo è quello che è successo a me per esempio, non perché ci fosse colpa di qualcuno, ma perché anzi i miei genitori, figuriamoci, erano stati super disponibili, eccetera, ma perché io ero testardo come un mulo e quindi quando ho deciso che volevo fare lettere non ho chiesto a nessuno un parere, non ho chiesto a nessuno un aiuto. Ho detto io faccio questo, basta, perché ero così. A 18 anni ero veramente un carro armato. Quello che voglio, lo voglio, basta, non mi rompete le balle. E poi sappiamo com'è andata, nel senso che non che io abbia niente contro la facoltà di lettere, ma sapete che è stata una scelta su cui poi io non sono stato soddisfatto. E tornando indietro avrei cambiato, mi sarebbe piaciuto molto di più studiare psicologia per esempio, ma l'ho scoperto più avanti. Non è possibile farvi consigliarli da qualcuno che sia del settore. E ora arriva la fatidica questione. Io di fatto non sono del settore. Semplicemente sono qui a esporvi un attimino le mie considerazioni che ho fatto lungo questi anni, conoscendo tantissima gente che del settore è. Molte volte, tra amici o tra conoscenti o dicerie che sento, insomma, molte volte ascolto di gente che dice Facciamo medicina, facciamo giurisprudenza. Faccio giurisprudenza perché ho il padre avvocato, faccio medicina perché la fanno tutti. Non è una brutta considerazione fare giurisprudenza se hai il padre con lo studio d'avvocato. Però, degli scherzi, ovviamente la considerazione lavorativa non è l'unica considerazione che si deve fare quando si sceglie l'università, però sicuramente è una considerazione. Quindi avere uno studio d'avvocato, come dire, già avviato, comunque non è una cosa da non prendere in considerazione. Fare medicina perché lo fanno tutti, quello invece, ovviamente è un disastro. ...così, ho lavoro assicurato, soldi assicurati e va tutto molto bene. Ma non solo è perché magari sono le università mainstream, in un certo senso. Quando parlo di università subito viene in mente medicina, giurisprudenza. Ora cominciano a nascere delle università anche particolari che stanno riscuotendo molto successo. Alcune branche di ingegneria, diciamo. Ma a volte questo succede anche con, per esempio, prendo fisica. Ecco, appunto, il mio campo, diciamo, quello che conosco un po' meglio. Prendo fisica perché mi piace il cielo, l'astrofisica, le stelle e voglio fare l'astronomo da grande. Ma magari il background da cui vieni è aver letto un libro pop-up, appunto, sulle galassie. Lei è qua, qua, Gabriele, picchia duro, eh, il libro pop-up. Cazzo, scusa, scusa, Gabriele, scusa. L'università di fisica e di matematica, quelle di cui voglio parlare principalmente in questo video, sono università molto toste. E non sto dicendo se vi piace la fisica ma non l'avete... Avevo fatto anche un video su... ...ma fisica è davvero così difficile? Assolutamente, andatevelo a recuperare perché ha ragione, chiaramente. ...mai vista, non scegliete questo percorso. Sto dicendo, se vi piace la fisica ma non l'avete mai vista nel dettaglio, prima di intraprendere un tal percorso, appunto, guardatela un attimo. Questo è il consiglio numero uno quando si tratta di scelta universitaria. Vale per matematica, vale per fisica, vale per ingegneria, ma vale anche per giurisprudenza, per lettere, per psicologia, per scienze delle comunicazioni, vale per tutto. E questo è l'errore clamoroso che io feci quando fu il mio momento di scegliere la facoltà. Ho scelto lettere non perché ero andato a vedere che cosa si facesse a lettere, o perché sapessi che cosa si faceva a lettere, ma per un'idea che mi ero formato di che cosa avrebbe rappresentato lettere per me. L'ho raccontato tante volte, io mi sono iscritto a lettere perché volevo nella vita scrivere, io volevo diventare uno scrittore o un giornalista. Quando avevo 18 anni le due cose per me erano un po' sfumate l'una nell'altra. Mi piaceva scrivere, questo mi è sempre piaciuto, sentivo di essere portato per farlo e quindi volevo fare quello. Nella mia mente lettera era la facoltà in cui studiando gli autori del passato e studiando la modernità nella scrittura sarei diventato un grande scrittore, un grande giornalista. Ma non sono andato a verificare che fosse questo una realtà. Quello che dice Gabriele è giustissimo in tutti i campi. Prima di prendere una decisione andate a verificare. Come si fa ad andare a verificare? Beh, parlando con qualcuno che quelle materie le ha masticate davvero ad alto livello, questo sicuramente, andando alle giornate di presentazioni delle facoltà, sicuramente le giornate di orientamento, ma anche banalmente andando a vedersi online i programmi di studio degli esami del primo anno, vedere che esami ci sono, andare a vedere in libreria i libri di quelle materie. Comprarsi un libro, si spende, magari scegli il libro più economico di quella facoltà, non so, e spendi 30 euro, 40 euro, non sono pochi, però va bene, per una scelta così importante sono soldi ben spesi, e te lo guardi, te lo studi. Alla fine non c'è una differenza sostanziale nel cervello, nell'abilità mentale tra il 18enne che sta preparando la maturità e il 19enne che fa il primo anno di università, giusto? E allora, prendetevi il libro, provate a studiare un capitolo e vedete com'è, vedete se vi piace, tanto quella roba lì ve la ritrovereste l'anno dopo. Quindi toccare con mano prima di scegliere è il consiglio più importante in assoluto, altrimenti si rischia di fare come sottoscritto e si prende un'accantonata gigantesca, scegliendo una facoltà che non ha niente di male di per sé, ma che semplicemente non è la facoltà per te. Tutto qui. Non solo studiatela, e quindi lì ritorniamo allo studiare da autodidatta, ma anche vedere poi quali sono i programmi nelle università in cui vorreste andare. Appunto, ho parlato anche con amici o fratelli di amici, molte volte perché erano indecisi tra un'ingegneria meccanica, un'ingegneria aero-spaziale, e a volte in queste università i primi corsi dei primi anni della triennale sono molto simili tra di loro, poi naturalmente più vai avanti più la cosa, diciamo, diventa specifica per ogni classe, per ogni classe di studio e così via. E naturalmente i primi anni, i primi corsi, le prime settimane, i primi mesi, sono una cosa fondamentale, sono l'inizio, perché molte volte certa gente abbandona certe decisioni, certi percorsi, sin da subito posso capire quanto le prime lezioni di analisi, di algebra, possono essere... Analisi è uno scoglio per tutti, ma anche ad economia, a ingegneria, analisi 1 e analisi 2, poi soprattutto se la dovete fare, non tutti la devono fare, sono due scogli importanti. Totalmente devastanti, perché purtroppo sotto questo punto di vista non ci prepara troppo la scuola, ma effettivamente cambiamo totalmente punto di vista. Molte volte mi dicono, ma se io arrivo all'università con la conoscenza di trigonometria, di quel poco di analisi che si fa al liceo, va tutto bene? E diciamocelo francamente, no, non va tutto bene. Brutale, severo, ma giusto, perché è così, non è spesso sufficiente, è vero, è così. Tutto bene. La matematica in analisi che vedrete appunto all'università sarà molto, ma molto diversa. Alcuni rimangono totalmente scioccati da le ovvietà che si dimostrano ad analisi appunto, ma il fatto che siano ovvietà, il fatto che non si dà niente per scontato, appunto questa cosa confonde ancora di più. E non c'è solo analisi, non c'è solo analisi, c'è algebra. Algebra è ancora peggio, perché in un certo senso non l'hai mai vista. Grazie Gabriele per metterci a nostro agio, così siamo molto più rilassati adesso nel voler scegliere fisica o matematica. Che meraviglia, non c'è solo analisi, c'è pure algebra, cattivissima, che vi aspetta, vi attende. ...in quel modo. Quindi, innanzitutto, non prendete le classiche università, perché fa figo prenderle, perché le prendono tutti e così via. Poi per carità, a volte certe convinzioni così grandi, certe anche purtroppo, che posso dire, raccomandazioni, perché in questo mondo ce ne sono tantissime, di raccomandazioni, di corruzione e così via, sono a volte purtroppo più forti della passione stessa, nel senso pratico, nel senso che appunto riescono comunque a far laureare lo stesso quella persona che ha zero inventiva, che ha zero passione, che lo trascina a fare quello che sta facendo. E secondo punto, non fate fisica o matematica, perché matematica vi piacciono gli studi di funzione, o fisica perché vi piacciono le stelle, o vi piace, che so, quello che avete visto poco poco al liceo. Perché se già matematica appunto Ho guardato Big 20, io eri troppo a lungo, come ho fatto io. ...è molto diversa, fisica lo è ancora di più all'università. Però sotto questo punto di vista, se capirete bene gli strumenti dell'analisi, fisica forse sembrerà più semplice. Perché tutte, per esempio, le leggi orarie su cui abbiamo speso mesi e mesi, a volte anche un anno di tempo per vederle, le ricavi con uno schiocco di dita. Basta mettere... Lui le ricava con uno schiocco di dita. Io no, di sicuro. ...qualche derivata, qualche integrale. E la questione sulle leggi orarie finisce lì. Poi però ci aggiungi altro, diciamo, materiale, molto altro materiale, molto più figo, anche molto più matematicoso, ed è buono che sia così. Però appunto una persona che va lì perché vuole fare fisica nucleare, perché sente parlare delle bombe nucleari, sente parlare delle centrali nucleari e così via, o perché sente parlare dell'astrofisica e vuole diventare astronomo, e va lì e si vede questi primi corsi che non c'entrano totalmente niente, e i primi corsi reali probabilmente li vedrà al terzo anno, ecco diciamo che potrebbe appunto essere indotto ad abbandonare. Quindi, appunto, potrebbe sembrare scontato, ma ragazzi, per favore, fatevi una vostra cultura di base generale prima di realmente... Non è scontato per niente, Gabri, è un ottimo consiglio quello che hai dato, lo sottoscrivo in pieno. Non dico neanche una cultura tale per prepararsi agli esami di ammissione, perché anche lì i test di ammissione sono a volte, dipende dai talk, dipende dalle università, ma sono naturalmente dei test in cui c'è cultura generale, anche comprensione del testo, logica, matematica e fisica di massimo, credo, terzo, quarto anno di liceo, che è tecnicamente scientifico, ma neanche problemi, poi chissà, troppo complicati, diciamo. A volte in quei problemi quello che può fregarvi sono realmente ciò che non c'entra niente magari con quello che andrete a fare, tipo logica o cultura generale o comprensione del testo. Quindi non dico semplicemente preparatevi per i test di ammissione... Per la compressione del testo la tecnica di lettura efficace funziona alla grande, quindi leggere per sapere, scaricatelo nel dubbio. E' ovvio, dico proprio, vedete un attimo quello che andrete a fare, capite che avrete un afformamenti su un programma molto ordinato che però costerà anche tanta, tanta pazienza, quindi anche tanto tempo. E' ovvio che tutti arriviamo a fisica per, oh che bello vedere la meccanica quantistica, vedere le particelle che si muovono, fisica nucleare, le cose che scoppiano, bellissimo, però bisogna un attimo partire dalle cose un attimo più ordinarie e anche forse viste in un modo più rigoroso quindi più complicate. Ed è da lì che capirete realmente se siete fatti per questo percorso. Ed essere fatto per questo percorso appunto non vuol dire essere geni ma appunto vedere che la passione ti scaturisce anche da questo... Senza passione non farete niente all'università a maggior ragione se la facoltà è difficile. Non scegliete delle facoltà difficili come appunto matematica, fisica, ingegneria, medicina, giurisprudenza, ma anche economia, psicologia, eccetera, non le scegliete se non vi piace davvero. E per sapere se vi piace davvero quello che dicevamo prima è informarsi. Perché se non vi piace davvero, se non avete della passione, che non vuol dire che tutti gli esami vi piacciono. Assolutamente. In ogni percorso universitario ci saranno esami che vi rompono le balle, esami che non vi piacciono, esami che considerate inutili, esami col professore e la professoressa che odiate. Quello è la base, è normale. Ma che la direzione vi piaccia, che vi piaccia l'argomento. Se non è così, se non c'è una passione di fondo, le università non si finiscono. Si rimane bloccati, fuori corso. Come ho fatto io, si finisce veramente a fatica. È un percorso bruttissimo. Questi argomenti, cioè da analisi, algebra e così via. E quindi poi soprattutto non lasciatevi influenzare dal consiglio di chi, sì, vi vuole bene, quindi vuole il meglio per voi, ma comunque non sa niente di quest'ambito. Dovete informarvi da chi le cose le sa per bene, da chi magari ha studiato nell'università in cui volete andare, da chi comunque ha studiato la facoltà che volete studiare anche voi, e così via. In questo aiuta un sacco internet, aiuta per esempio il mio gruppo Telegram, dove siamo mille persone, belle coese, perché voi cliccate il link, entrate e c'è una mia... Mi piace, mi piace che il buon Gabriel è diventato anche un po' marchettaro. Bene, bravo Gabriel, lo stiamo plasmando, sta diventando... Voi nel dubbio, prima di iscrivervi al gruppo Telegram di Gabriele, iscrivetevi a Sistema DC, no? C'è sia la versione per la scuola superiore, sia quella per l'università. Iscrivetevi perché è un corso sul metodo di studio che vi stravolge completamente la vita di studio, sia universitaria che scolastica, a prescindere poi da quale scelta di facoltà prenderete. Quindi nel dubbio, entrate in Sistema DC e poi anche nel canale Telegram di Gabri, che ci sta. Riade di gente esperta, ma davvero. Abbiamo tantissima gente, gente che si è lavorata alla normale di Pisa, gente che ha lavorato al CERN, quindi entrate e per qualunque dubbio, non solo appunto poi sulla vostra formazione scolastica, universitaria, ma anche oltre per delle domande proprio sulle questioni e così via, potete consultarci su questo gruppo. Io proprio vi chiedo di non prendere mai sotto gamba queste cose, proprio odio la gente che quasi con una nonchalance così bella, nel shield più totale, sceglie l'università quasi a caso, tirando a dadi. C'è gente che poi per esempio non apprezza tanto la teoria di fisica che c'è dietro, per esempio e così via, lì sono appunto gusti, però magari gli piacciono lo stesso le materie scientifiche, sotto altri punti di vista. Non è detto che dobbiate tutti subirvi questi corsi così pesanti e rigorosi di matematica logica, assolutamente no. Potete per esempio appunto prendere altri percorsi, intraprendere, studiare altre facoltà e così via. Come per esempio ingegneria. Ingegneria è un giustissimo compromesso che tantissime persone prendono appunto. Un compromesso tra tante passioni che hanno, la matematica, la fisica, la scienza e le applicazioni poi. Perché sì, alla triennale di fisica per esempio abbiamo tanti laboratori è ok, però vuoi o non vuoi manca quel a volte senso di... Tra l'altro, tra l'altro, ingegneria insieme anche alla facoltà di economia sono le facoltà più richieste in assoluto sul mondo del lavoro. Quindi chiaramente come dice Gabriele è un compromesso, però è un buon compromesso. Praticità. Poi dipende naturalmente dai corsi e dalle università e dai professori e tutto anche lì. Ora ci arriviamo come ultimo punto. Però comunque rispetto a un'ingegneria che so, meccanica magari o aerospaziale. Ecco, l'ingegneria aerospaziale è una di quelle che a me personalmente attira davvero tanto. Quando per esempio si dice quale sia l'università più complicata, ragazzi, questi discorsi sono troppo intricati, troppo a volte anche no sense. Perché mancano le definizioni di base? Che vuol dire complicato? Una lo può essere in un senso, l'altra in un altro senso. Ne abbiamo parlato molte volte. Ci sono facoltà che sono difficili per la mole di studio come giurisprudenza e medicina. Ci sono facoltà che sono difficili per la complessità intrinseca degli argomenti come fisica e matematica. Ci sono facoltà in cui c'è un mix delle due come ingegneria. Quindi assolutamente ha ragione, non si può definire qual è la facoltà più difficile. Noi giochiamo, io spesso gioco su questa cosa, qual è la più difficile, ma in realtà il messaggio finale è sempre che ci sono modi diversi di essere facili o difficili. E così via. Ingegneria aerospaziale può essere complicata per tantissimi motivi, ma anche fisica d'altronde lo può essere per tantissimi altri motivi e a volte gli argomenti che si studiano sono gli stessi. Però appunto sembrano essere diretti verso qualcos'altro, verso un bagaglio culturale più da fisica teorica per l'appunto. E gli ingegneri aerospaziali mica sono appunto fisici teorici, ma entrambi vi posso garantire che faticano tantissimo a studiare quello che studiano. Quindi come... saluto il buon Leo carissimo amico che è ingegnere aerospaziale e che voglio dire mi ha fatto vedere da vicino quanto tosta può essere quella facoltà. Come fate a capire se a voi piace più la teoria della fisica o magari sia la teoria che l'applicabilità o più la matematica addirittura e così via appunto dovete informarvi bene innanzitutto sui programmi che sono previsti dalle facoltà su tutti i corsi anche a lungo termine anche quelli che farete al terzo anche se ancora non avete fatto testa di ammissione. e poi piano piano comincerò a vedere le cose che farete ai primi corsi. Quindi capite quando si parla di queste cose è sempre un compromesso buttatevi sì ma non troppo approfondite prima capite bene capite se vi piace sentite più pareri e così via. Quindi voi potreste fare per esempio quella determinata facoltà ma poi dove la faccio perché dipende anche molto dai professori un professore può cambiare un intero corso ragazzi assolutamente sì e questo sì dipende molto dai pareri altrui ma non da quelli dei vostri genitori perché se voi i vostri genitori sono professori universitari o hanno studiato lo stesso che volete fare voi o hanno studiato dove volete andare voi sì ma se invece non ne sanno niente di questo mondo no perché magari loro si basano su altri parametri farvi andare più lontano farvi andare più vicino e così via. ascoltate la gente che invece di cui potete fidarvi perché ha un curriculum che è molto simile a quello che magari vorreste poi avere voi ma qui in realtà non c'è solo problema di università qui c'è problema di tutto se volete andare all'università di quel posto che dista 100 km 1000 km sta dall'altra parte del mondo di dove vivete oggi c'è anche ovviamente da considerare una questione di disponibilità disponibilità economica di spostamento non sono fattori da sottovalutare è importante soprattutto in Italia purtroppo sapete che c'è molto forte il tema del trovare casa degli affitti in particolare nelle città universitarie Bologna e Milano in testa ma anche Torino ma anche Padova luoghi dove trovare affitto per gli studenti è sempre più difficile quindi anche questo va considerato attentamente. Ora naturalmente ci sono altre mille questioni da approfondire soprattutto il contesto sociale dove andrò a inserirmi dove cambierò totalmente la mia vita a questo punto se uno vuole rimanere in Italia ci sono tante scelte per le università di cui insomma stiamo parlando principalmente in questo video l'importante è innanzitutto siete voi perché siete voi a dover andare in quel posto siete voi a dover studiare e siete voi a dovervi impegnare quindi parte innanzitutto tutto da voi stessi come sempre nella vita detto questo io per oggi non ho più nient'altro da dirvi ripeto questo non era appunto il video in cui dichiaro quale sia il metodo per scegliere o quale sia quello è il video che ho fatto io comunque interrompo tronco la frase a metà di Gabri perché questo video voglio dire è impeccabile ma andatevi a vedere chiaramente tutti i video di Gabri ascoltate i suoi consigli perché sono ottimi devo dire in questo video ha dato come se ce ne fosse necessità ancora una volta prova di grande maturità e di grande saggezza in qualche modo quindi assolutamente tutto quello che ha detto è corretto lo sottoscrivo fate un'analisi accurata date un'occhiata anche i video che io stesso ho realizzato sul tema dove vi do proprio anche un metodo proprio per la valutazione delle diverse facoltà delle diverse opportunità questo è importantissimo il passaggio dalla scuola superiore all'università è un passaggio cruciale non va vissuto con ansia con preoccupazione eccessiva ma va vissuto con serietà ecco questo è l'ultimo messaggio che vi voglio dare un messaggio che io sempre lancio ma che in questo video particolare e con questo argomento in particolare deve sempre tornare fuori è di ricordarsi sempre per chi lo state facendo la scelta universitaria non è per i vostri genitori non è per i vostri insegnanti non è per i vostri amici non è per la vostra compagna il vostro compagno è per voi lo studio è qualche cosa di assolutamente personale lo fate per voi quindi scegliete valutate informatevi e poi decidete la vostra facoltà sulla base di quello che sarà il vostro percorso la vostra passione le vostre prospettive ciò che voi volete fare perché è l'unica cosa che realmente conta e allora grazie a Gabriel ancora una volta adesso lo facciamo tornare il prima possibile sul canale e nel frattempo vi do appuntamento al prossimo video e alla prossima reaction ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti